Ciao ragazzi, Pagelle di Torino, Inter, mi raccomando, lasciate like al video, commentatelo che così so anche cosa pensate voi e iscrivetevi attivando le notifiche, perché questa settimana poi è un po' di mercato, ma c'è il siti e quindi sicuramente faremo pre-partita, prepareremo la partita, no? E quindi non perdetevi i contenuti, mi raccomando. Ora andiamo diretti ai voti, spero abbastanza sintetico, anche perché la partita non ha offerto grandissimi spunti tattici per come ha giocato l'Inter, poi ci arriviamo, innanzitutto partiamo da Andanovic, che piglia per me un 7 perché ha fatto una parata pazzesca su Caramò, tiro difficile da parare perché di sinistro, angolato, anche abbastanza veloce, però Andanovic ha finito, diciamo secondo me, penso che non rinnoverà all'Inter da quello che si sente in giro, quindi secondo me ha finito benissimo la sua avventura all'Inter, salutandoci di fatto con una grande performance, una grande parata che comunque ha salvato il risultato. Poi andiamo da Darmian, altra partita più che sufficiente, con un 6,5, attento in difesa, ma anche utile in fase di impostazione, nel salire, nel proporsi, nel dettare magari un passaggio per poter supportare poi il centrocampo, lo apprezzo sempre, Darmian ha fatto una stagione comunque assolutamente super positiva. De Vrij conferma il fatto che sta bene, che è in forma, che è tornato un po' il De Vrij che conosciamo, 6,5 anche per lui, preciso dietro, non ha mai lasciato spazio a Sanabria, che comunque era un appunto un po' isolata, devo dire, il Torino, come dicevamo anche le pre-partite, il 3-4, il 3-4-2-1 ha dei punti forti ma dei punti deboli, però in ogni caso bisogna comunque controllarlo poi il giocatore, anche perché Sanabria è un giocatore che si muove molto. Mi sono piaciuti anche dei recuperi, delle belle chiusure di De Vrij, anche l'85esimo di corsa. Bastoni, 6,5 anche per lui, anche lui ordinato dietro e mai in affanno, tutta la difesa comunque, come vedete, voti simili, perché secondo me tutto il reparto ha beneficiato del fatto che il baricentro della squadra ieri fosse medio-basso. Questo non vuol dire, ok, è benissimo, siccome la difesa è più a suo agio, giocando col baricentro medio-basso, allora giochiamoci di default sempre da adesso in poi, perché comunque bisogna pesare pro e contro, è tutto. Diciamo che ieri l'Inter ha risparmio, è riuscito a vincere la partita, essendo un po' più diretta, un po' più contiana forse per certi aspetti, però alla lunga speculare non è quello che ti fa vincere le coppe, che ti porta avanti. Quindi, insomma, comunque in alcune partite ci sta assolutamente, dato il contesto, poi l'Inter adesso non può sprecare energie fisiche e mentali, perché doveva chiudere in bellezza il campionato, ma bisogna pensare poi alla prossima partita, è normale che si sia giocato in questo modo. Dumfries, 6, tiene la posizione e poco altro, quindi ha avuto una mezza occasione sul secondo palo, di sinistro deviata, però poco, poco altro, ecco, ieri entrambi gli esterni sono stati abbastanza bloccati dietro e hanno fatto proprio il compitino essenziale. Gagliardini, unico, vero, insufficiente secondo me di ieri, 5 più è il suo voto, ha commesso più di qualche imprecisione nei passaggi, anche passaggi abbastanza semplici, penso un passaggio su Dumfries, cioè a mezza via tra lui e non mi ricordo chi era davanti, però, insomma, forse dal mio, però, insomma, veramente boh, veramente boh. A mezza via, passaggio senza pressione, senza pressing e va quasi a sbagliare. Boh, diciamo che giocatore per me inadeguato a quello che è il livello oggi dell'Inter, oggi dell'Inter, e anche quello che è il sistema di gioco che adottiamo, cioè l'Inter oggi è una squadra che comunque vuole giocare pallone, vuole manovrare, vuole spostarsi, deve avere tecnica in mezzo, Gagliardini si vede che non è a livello degli altri. Giusto, vado via. Brozovic, 7 e mezzo, migliori in campo per quanto mi riguarda, ha recuperato vari palloni, e poi gli hanno smistati anche molto bene questi palloni. Ha trovato un ottimo gol di sinistro, veramente, insomma, lui sappiamo che gioca destro-sinistro, comunque c'è la conclusione dal limite dell'area. Davanti alla difesa io continuo a dire, e non lo dico adesso che è comodo perché Brozovic sta facendo bene, ma lo dicevo anche quando era rientrato un po' dall'infortunio, faticava, e tanti gli preferivano, c'è la Noglu, beh basta, c'è la Noglu del titolare, Brozovic possiamo fare a meno, perché tanto Brozovic non è importante, via, ormai non è più lui. Anche allora, lo dicevo e lo ribadisco adesso, davanti alla difesa Brozovic non ha pari, punto, punto. Poi, questo non vuol dire deve rimanere per sempre, non si può valutare il mercato, perché comunque ci sono anche altre cose che incidono sulle valutazioni, l'età, il contratto, magari la voglia del giocatore anche di concludere la carriera da un'altra parte, eccetera, eccetera. Quindi poi, questo non vuol dire bisogna tenerlo. Però se deve partire, e non dico di no a priori, dipende come lo sostituisci, cosa fai dopo, quello dipende, però se deve partire, io mi aspetto 40 milioni, non 25, non 28, non scambi, e questa robetta qua, perché è un giocatore per me di assoluto livello, e comunque ancora nel pieno della carriera. C'è la Noglu, sei più, mette gamba, mette grinta, ed è quello che si arriva, se vogliamo, in una partita un po' rognosetta in mezzo al campo, sempre utile, anche se non è che abbia brillato. Poi abbiamo Gosens, che non mi ha convinto appieno, un 6-1 ecco, un 6-1, anche lui come Dumfries, diciamo che si è limitato a tenere la posizione per una partita molto attenta, molto equilibrata, però insomma mi sarei aspettato qualcosa in più, francamente, da un Gosens che deve riconfermarsi la prossima, la conferma, insomma, per la prossima stagione, un giocatore che non è mai totalmente, non si è mai totalmente integrato, non si è totalmente, diciamo, non ha mai dimostrato completamente il suo valore, o almeno il valore per cui è stato acquistato. Mi aspettavo qualcosa di più, un po' più di intraprendenza, un qualche glizzo in più, qualche cross in più, invece veramente poca roba, poca, poca roba, ecco. Continuo a ripetere quello che ho detto un po' per un anno e mezzo, per quanto mi riguarda Gosens è un giocatore buono, ma non per l'Inter, ma non al livello, non che non è al livello dell'Inter, ma non giusto per quello che ci serve, per quello che servirebbe a noi. Io lo metterei sul mercato. Lautaro, 5 e mezzo, un po' spento, devo dire, sbaglia poi un controllo palla assurdo, lanciato a rete con un gol praticamente fatto, gli ha sprecato un'occasione clamorosa. Forse aveva la testa un po' in Istanbul, ci sta, eh, ci sta, non sono minimamente preoccupato, anzi, volentieri, cioè se ieri ha fatto una performance un po' così, un po' grigetta, perché ha la testa Istanbul, vuol dire che magari si sta tenendo per quella partita e spero che in quella partita poi invece faccia fuoco e fiamme, quindi nessuna preoccupazione, eh. Invece abbiamo Lukaku che non si è tenuto, 7 più assolutamente, e ha giocato tutta la partita tra l'altro, 7 più, continua a essere dominante assolutamente in un finale di stagione in crescita, e questo mi fa ben sperare anche qui per la finale, difende la palla ogni volta con grande fisico, con grande potenza, e questo ci ha consentito di giocare in maniera molto semplice, molto diretta, e giocare a risparmio, senza dover impazzire per costruire le azioni, palla un po' diretta a lui, lui la tiene e si abbassa di 10 metri, tutta la squadra sale, appoggio, gol, ecco, appoggio, tiro. Ecco, molto, molto, abbiamo giocato veramente semplice, semplice ieri, e il gol di Brozovic, non a caso, è anche suo in parte, no? Quindi, il 7 più per me è meritatissimo, nonostante non abbia fatto gol. Barella, e comunque sono andato vicino, Barella a 6 e mezzo, mi è piaciuto come è entrato in campo, è entrato di fatto dando quel dinamismo che un po' ci era mancato in una partita con Cagliardini, con Gosens, Dufres, tutti un po' bassi, così, c'è la Noglu che si è un po' tenuto, ci è mancato un po' di dinamismo in mezzo, mancandoci anche Mkhitaryan, in una partita, tra l'altro, contro un 3-4-2-1, come l'Atalanta, per esempio, la settimana scorsa, con, diciamo, quindi i mediani, dove c'è spazio in mezzo, perché i mediani a volte si spostano via, lì bisognava bucare, Barella abbiamo visto che è entrato dando quell'agilità, dando quella frizzantezza, per me, insomma, ieri è entrato bene quello spezzone che ha fatto, poi abbiamo Bellanova, 6-0, neanche lui mi ha convinto, ma in realtà ci sono delle attenuanti, però c'è una cosa che non mi è piaciuta, allora, le attenuanti sono palesemente che ha dovuto giocare a sinistra, per una partita, insomma, un po' difensiva, e tra l'altro, contro un single che offendeva, non sono le sue, diciamo, non sono le sue caratteristiche principali, quelle di stare lì, in posizione, e difendere, no? Bellanova la devi sfruttare in altro modo, cosa che non abbiamo quasi mai visto per tutto l'anno, ed è un grande dispiacere, perché secondo me è un giocatore che, per quanto molto giovane, acerbo, quello che vogliamo, secondo me ha del potenziale da sgrezzare, bisognava lavorarci, bisognava però anche dargli dei minuti in più in campo e metterlo, e testarlo un po' di più. L'abbiamo testato, sempre in situazioni non consone, contro il Napoli, in una partita tutto quanto difensiva, dando lassù, diciamo, facciamo tutto turnover, dicendo al Napoli, vabbè, questa l'abbiamo persa, ci concentriamo sulle altre, contro Varascheglia e via, insomma, una partita non ideale per Bellanova. Le altre gioca a sinistra, che non è il suo, perché non è che i giocatori destri non possano giocare a sinistra, però dipende che giocatori sono, che modulo usi, eccetera, eccetera. Bellanova, che è un giocatore di spinta, di gamba, che deve mettere il cross, che deve puntare l'uomo, eccetera, sulla sinistra, sulla sinistra un po' fatica, cioè non è, non lo mette a suo agio, quindi questa grandissima attenuanti, e potrei anche non dargli il voto, però il 26 meno, perché non mi è piaciuto il parapiglia, che ha avuto con Singo, sicuramente Bellanova era, un po' frustrato, dalla fallo, che aveva subito prima, da Singo, sempre si era un po' sempre, diciamo, intersecato, un po' imbrigliato, si erano un po' toccati i due, quindi ci sta che fosse un po' nervoso, anche perché, magari voleva dimostrare, e però invece ha avuto occasione solo di giocare a sinistra, e neanche dall'inizio, quindi magari da giovane, sapendo che c'è riscatto, che incombe, che non si sa, magari posso provare a immaginarlo, però comunque, cioè quindi a capirlo, però non mi è piaciuto il fatto che abbia strattonato, dato un mezzo pugnetto a Singo, questa cosa, a me non piacciono, che lo faccia Bellanova, l'autaro, non mi piacciono queste cose, quindi il 6 meno l'ho voluto dare, poi andiamo da Dzeko, 6 e mezzo, colpisce, colpisce un palo, tra l'altro, in un'ottima, con un'ottima, scambio, diciamo così, con Lukaku, è entrato abbastanza bene, Dzeko mi è piaciuto, perché è vivace, è entrato comunque, provando a trovare il gol, provando a dare le giocate, muovendosi, intendendosi anche con Lukaku, questa cosa l'ho molto apprezzata, e di fatto, anche qua si vede che Dzeko, un po', un po' contingentato, alla fine, è sempre quel giocatore molto utile, anche lui per la finale è presente, poi si vedrà che scelte fare, concludiamo con Kordaz, l'ho tenuto per ultimo, così come un po' meme, diciamo, perché per simpatia, per chiudere in bellezza, 7, perché ha fatto un intervento miracoloso, su Sanabria, veramente miracoloso, viene da pensare quasi, che l'emozione, probabilmente aveva, entrando in campo, così, eccetera, l'abbia trasformata completamente, in una fiala di adrenalina pura, perché, non solo con la parata, ma poi anche, a giudicare, dai dribbling che ha fatto, e dalle giocate con i piedi, dalla difesa, senza avere pressione, senza, cioè, mi ha dato proprio l'impressione, di un giocatore, on fire, assolutamente, adrenalinico, che aveva questa emozione, che, e che voleva, e che voleva divertirsi, però anche con sicurezza, quindi, tra l'altro l'Inter ha aspirato un gol, su una ripartita, cioè, su una azione iniziata da Kordaz, gestita da lui, con i piedi, con l'uscita dal basso, vabbè, era stato un colmo, segnare con, con Kordaz, regista, in zaghi, concludiamo con un 7 e meno, scusate, non un 7 e mezzo, 7 e meno, l'Inter ha vinto, ancora una volta, andando, secondo me, il 75%, quindi, un po' come in Coppa, c'è un Inter che sta un po' bassa, gioca un po' diretta, un po' semplice, e col minimo sforzo, trova un gol, e poi, chi si è visto, si è visto, non bellissima da vedere, e non auspico di vederla, ancora così a lungo l'Inter, tipo l'anno prossimo, che adesso sia una nuova Inter così, perché non è che mi piaccia molto, sembra che siamo tornati un pochino indietro, però, è stata, è un Inter comunque efficace, e, per questo momento, in alcune partite, in alcuni momenti, in alcune situazioni, ci può assolutamente stare, non è che si debba sempre giocare, manovrando, dominando, e in maniera bella e via, ci sono delle volte in cui, ha senso giocare anche così, ho il minimo sforzo, mentale, più che altro, palla diretta, portiamo a casa i tre punti, in maniera, e poi, e basta, speculiamo, ci sta, in questa partita ci sta, data la situazione appunto, di calendario e via, ed impegni. Altra cosa, l'unica cosa che non mi è piaciuta, è in realtà questa, che non l'abbiamo visto, né Aslani, zero minuti, e anche Vellanova, l'abbiamo visto a sinistra, dieci minuti finali, un po' così, questo è un dispiacere, perché entrambi i giocatori, Aslani è nostro, però bisogna comunque valutarlo, per capire l'anno prossimo, è il vice mediano, oppure no? E poi, rimane Brozovic, cia ciala, oppure, si vedrà, no? Cioè, ma ci punti oppure no? Perché se non ci punti, inutile tenerlo lì, è un giovane, diamo l'imprestito, perché sarà nostro, ce l'obbligo di riscatto. Quindi, a sto punto, si valuti e si vede l'imprestito. Però, se non l'abbiamo testato quest'anno, se l'abbiamo visto troppo poco, c'è già il rischio di fare, di dare delle valute, di valutarlo in maniera un po' superficiale, no? Stessa cosa vale per Bellanova, che non è neanche un obbligo, quindi quella addirittura, la valutazione è sul riscatto addirittura, e può essere anche superficiale. Quella, se non l'avevi abbastanza testato, ho provato in campo, magari poteva crescere, avere potenziale, darti qualcosa in più, non l'hai neanche provato molto, lo lasci andare, è un riscatto per un italiano, a 22 anni, con quelle caratteristiche, 6 milioni, francamente, cioè, non ha quasi neanche senso non farlo, perché è rarissimo, cioè, è molto difficile che possa non crescere e valere meno di 6 milioni, è molto probabile invece che possa valere di più, anche solo 10, 12, 15, 20, eccetera, andando avanti, e quindi a 6 è un po' idiota non provarci. Però, certo che testarli così poco, significa non avere poi delle notizie, certe, su cosa poi vuoi fare, o affidabili, e quindi avere delle analisi un po' superficiali. Questa cosa un po' mi è dispiaciuta, di questa stagione, anche dell'ultima partita, ma in generale un po' della stagione. Avremmo potuto vederli forse qualcosina in più. Invece abbiamo visto tante volte, Gagliardini, no? E abbiamo visto, Dumfries, anche in un momento di stagione, francamente, in cui, adesso, vabbè, si è un po' ripreso, però, ci sono stati due o tre mesi, Dumfries, dove veramente inanellava, quattro, cinque, tre, come piovessero, e non stoppava neanche un pallone, cioè, veramente, quasi un insulto al calcio, vederlo in campo. Poi capisco che non si volesse, magari, svalutare, vabbè, però, qualche minuto in più a Bellanova, magari, si poteva anche concedere. Comunque, pazienza, sono, ripeto, sono dettagliuzzi nel bene, nel bene generale, nella contentezza generale, però, io guardo anche i piccoli dettagli, positivi, anche negativi. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo prestissimo, mi raccomando, supportate il canale, io vi aspetto, come sempre, nel gruppo abbonati, ad accogliervi, qualora decideste, decideste di, di stimolare, di supportare il canale, anche concretamente, e nulla, ovviamente, ci vediamo, già nei prossimi giorni, con i prossimi video, magari domani, qualcosa di mercato, in realtà, ho un'altra cosa, che vorrei fare, più che di mercato, ma insomma, vediamo, vediamo, vorrei dare un giudizio complessivo, alle stagioni, non solo dell'Inter, ma le stagioni, delle concorrenti, delle rivali dell'Inter, ne parleremo, ne parleremo, ciao ragazzi, forza Inter, e a presto.